per ester e carlo ormai vi sto facendo dei video personalizzati a voi due anche se anche se non vi conosco anche se ancora io non vi conosco comunque dai va bene lo stesso anche se l'altro candidato prenderà a posto mio non fa niente non fa niente per modo che decidete voi è giusto che bisogna essere imparziali però vi volevo far vedere che io continuo a vedere come potete vedere alla ricerca di quello che possiamo veramente dare a chi è propenso naturalmente a chiedere e questo è di solo ed è importante quindi la ricerca continua di posti territori e qui vicino a me sicuramente si può avere parecchio da questo punto di vista basta solo continuamente cercare e il fatto positivo è che io dall'1 al 15 maggio sono con un tour di hikers quindi di camminatrici che vengono da new york e faranno insieme a me e alla mia compagna che come ho già spiegato a ester è una guida turistica dove faremo dei percorsi va bene per 15 giorni il percorso si chiama la via degli etruschi e come vede potete vedere insomma poi alla fine il tutto rimane veramente molto molto naturalistico però allo stesso tempo ti lascia ti lascia qualche cosa di veramente profondo all'interno dell'anima perché non è da tutti i giorni girare in posti come questi soprattutto per chi è abituato al tram tram della città quindi dall'1 al 15 avrò una grande una grande un grande lavoro da fare ma soprattutto questo lavoro che farò dall'1 al 15 servirà sicuramente per migliorare il progetto che ho in corso da tre anni a questa parte va bene dopo quest'altro pappone è ora oggi questo momento di ritornare a casa è da stamattina che sono in giro quindi va bene così godetemi un altro po' di panorama alla prossima voglio vedere quando è che ci sentiamo